Nacqua Chatillon, in Valle d'Aosta, naturalizzata francese dal 13 luglio 1922, dopo aver esordito con alcuni film muti negli anni 10, riprese la sua prolifica carriera di attrice negli anni 30 recitando in innumerevoli pellicole. È particolarmente ricordata per la sua partecipazione ai film di culto Il Tempo delle Mele e Il Tempo delle Mele 2, nei quali dava volto all'eccentrica bisnonna della protagonista Vic, interpretata da Sophie Marcio, deceduta nel 1996 all'età di 99 anni. Il suo ultimo lavoro risale al 1991, quando ha recitato nel film Chin Chin di Gene Sacks.